No! Porca puttana d'unema! Ma siccome quello non vede l'ora di mandarmi via, hai capito? E a me non manderebbe da chiedere scusa proprio a nessuno. Ma voglio andare a Roma, voglio andare a votare per i comunisti, perché lui l'hanno la caccia mia! Vieni qua, mimmi, vieni. Vieni da nonna tua, vieni. Sì, ma non fa scherzi, eh? Va bene? Andiamo. Sapessi quanto mi ha fatto Scampena? Ma in piena neanche, so grande! Ma perché con i nonni c'è Stampena? A me il musso qua, basta! Bello che nonna, muovete nel su! Mimmo, guarda! Eh? Qui ci sono tutte le medicine, qui ci sta scritto tutto quello che deve prendere, le ore e le dosi. Il teparino e il pentachef, già l'ha presi. Alle 10 gli dai il derinal per la circolazione, alle 10.30 gli dai il cardizone per tenervi il cuore. Poi mi raccomando, prima del pasto che deve essere molto leggero e tutto in bianco, un cucchiaino di ebaren. Dopo mangiate, invece? Fermate, guarda che a me già me sta scoppiata, eh, sazia. Fermate, se no veramente faccio carte 48, eh? Dai, nonno, dai, stai calma. Mo' viaggiamo tranquilli, sereni. Dai, munta. Io non parto. Cosa? Non parte! E il sedile davanti come voglio! Perché io voglio stare dietro che mi fanno male le gambe, io le devo stendere! Togliamo il sedile! Come il sedile? Ma cosa che vuole? Che ce vuole? Ma che stai a scherzare? Vediamo il sedile e fermo la contenta. Mannaggia, ma basta, sempre io con questo problema delle gambe, io non ce la faccio più. E allunga le gambe, ripiega le gambe, ristende le gambe, ritira le gambe, ricopre le gambe. Io le toglierai quelle gambe! Ma se le potrei mettere prima queste calze elastiche? Proprio mo', in mezzo alla strada? Ma stamattina il colonnello mi ha detto mettete le calze. Ma io le ho risposto, non pensa per te! Mammo, le gambe mi do, non ne la faccio più, mi sei colontino. Allora, vabbè, dimmi, non stanno queste calze? Dentro la borsaniera c'è pure il bolo d'alco. Il bolo d'alco? Ma se no, mica entri lui! Mettiamo queste calze elastiche col bolo d'alco. Ma dove siete i bolo d'alco? Sui gambe o sui calze? Se tu c'è due. Allora, forse, no. Ah, io, Mimmo, c'ho il pizzero! Ma che cavolo fai? Oh, è scappola, Natti, non dai, nonna. Dai, forse, che mo' piano piano ce ne proviamo. Che è? Che è? Che è? Che è? Ma dove sta ferma? Dai, sta ferma! Oddio, ma il sole è di tu! Andiamo su, dai! Sto a te ferma! Sto a me a fare i dico! No, perché hai da, sta ferma! Sto a me a fare i dico, non lo sai? Aiuto, aiuto! Basta! Oddio! Oddio, sta buono! Oddio, 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 oddio! Che è? Che è? Che è? Oddio! Oddio! Sta buono, sta buono! Non me lo faccio sotto! Fammela la mano! Fammela le mani! No, no, no! Fammela la mani! No, no, no! Alza la gamba! Non la leva, per carità! Alza il sedere! Non la leva per carità! La gamba l'a fa' dorsi! Oddio! Alza lei! No! Alza! Au! Che stai a scherzare? No! Che mio uccolone che sei? Ma che te ne dico che sto così? Che te la faccio tutto? Ma stai a scherzare? Ma sei proprio mio uccolone col... Ma che ne so? C'è duomila medicine, sai?